Un insulto tracciato con la vernice spray blu. Ancora una volta è stato vandalizzato il murale in località La Chiazza che ricorda i due partigiani, Giovanni Battista Mineo e Giuseppe Rosadi. Il modo giusto per ricordarli è quello di ricordare due eroi, non certo quello di questi personaggi indefinibili. Mineo e Rosadi sono noti come gli eroi della Chiazza per aver salvato 209 ostaggi dall'ennesima strage nazista il 29 giugno 1944. La scritta è comparsa all'indomani dell'ottantesimo anniversario. Proprio in quell'occasione era stata scoperta una nuova targa di intitolazione del parco. È grave perché in effetti sappiamo bene che dietro questi gesti che possono essere considerati in maniera, c'è chi li considera delle bravate, no ma non è così. Sono il sintomo di un clima politico che si sta inasprendendo, insomma queste persone si sentono sempre più forti. Quindi sappiamo bene che ormai purtroppo possiamo dire certi valori sui quali si è retto la nostra società civile nel dopoguerra e uno di questi è l'antifascismo, non sono più un sentire comune della maggior parte delle persone. Il murale è stato ripristinato a tempo di record dalla brigata partigiani 25 maggio che è coinvolto nelle attività anche giovanissimi. Voglio cogliere l'occasione anche per ringraziarli perché per quello che fanno non soltanto per la manutenzione di quest'opera ma quello che fanno per mantenere la memoria di quello che è successo con la Chiazza è veramente ammirevole. Sugli autori sta indagando la Digos che ha anche già inviato una segnalazione al Ministero dell'Interno, non esclusa un'ispirazione ideologica riconducibile alla destra estrema e neofascista. Sono fiducioso sul fatto che alla fine si possa mettere queste persone di fronte alle loro responsabilità.